Si intitola Tuno ed è il brano che a Sanremo 2024 porta i rama, tornando a Sanremo pur la rimane in quella piacevole ipertestonia musicale riuscendo a entrare nel cuore della gente. Sostenuto da un pianoforte grande, stupendo e magnifico con un finale veramente magistrale, Tuno si preannuncia un pezzo veramente di grande pregio e di grande fascino. Un timpano, meglio dei timpani utilizzati, orchestra che utilizza in pieno tutti gli strumenti messi loro a disposizione, si trova come una sorta di film di gladiatore dove abbiamo delle sonorità totali e complete che sicuramente riescono a entrare nell'animo della gente. Il risultato è abbastanza buono, da un misaggio su web, Tuno riesce a identificarsi nel ben impaginato mondo della musica di rama. Iscrivetevi, commentate, ciao!